Siamo ora alla pagina degli spettacoli, ci sarà anche un po' di Puglia alla prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia che si inaugura dopodomani l'inviato Costantino Foschini. Nozze d'agosto, un piccolo originalissimo film pugliese all'inaugurazione della mostra del Cinema di Venezia. Apre le giornate degli autori 2012, il regista è Roberto Pansini di Molfetta e lì è stato girato, spalanca una finestra su un mondo cinematografico inesplorato eppure con un pubblico vastissimo, non cinema indiano, coreano o vietnamita, bensì quanto di più nostrano, popolare e vicino si possa immaginare. I filmini di matrimonio. Quattro anni fa Pansini ebbe l'idea di far proiettare questi filmini nei cinema di paese per il pubblico di invitati e curiosi. Fu un successo e ora quell'esperienza, Matrimovi, il tuo matrimonio al cinema, è diventata un film. Protagonista Mauro, appunto un filmmaker specializzato in filmini di nozze, incontra altri autori del genere, si scambiano esperienze. In quella strana Hollywood dei matrimoni al cinema, con una aneddotica fantastica, che certo sarebbe potuta piacere a Fellini, a Venezia, da Molfetta, nozze d'agosto. Grazie a tutti.